Sabrina Pontrelli, consigliere provinciale di Taranto e presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Taranto, un'iniziativa quella che si celebrerà domenica a Taranto presso la Rotonda del Lungomare alle ore 10.30, stop alla violenza sulle donne. La sua sensibilità, la sensibilità della Commissione che lei preside in questa battaglia di vita, di civiltà, di difesa della dignità della donna. Sì, assolutamente sì. Noi come Commissione e consulta, quindi due organismi della provincia di Taranto che ormai da un anno e mezzo lavorano alle pare opportunità, abbiamo sposato pienamente sin da subito la proposta e l'iniziativa dell'Avvocato Gina Lupo, consigliera di parità, che ha voluto, in occasione della giornata internazionale della donna, portare alla Rotonda un flash mob per dire stop alla violenza sulle donne. La sensibilità è tanta da parte dell'Avvocato Gina Lupo e della sottoscritta, ma di ciascun membro della Commissione della consulta. Ci vuole un coraggio politico e sociale per scendere veramente in campo. Ci vuole inculcare anche la mentalità della denuncia. Quindi essere presenti. Ecco perché questo flash mob. Noi vogliamo ricordare le vittime di femminicidio, ma vogliamo dare anche un segnale forte al territorio. Noi ci siamo. Quindi la nostra presenza forte insieme ai 29 comuni della provincia di Taranto per far arrivare anche un messaggio positivo, di speranza. Quindi denunciando ci si può riprendere in mano la propria vita.